Quello che mi piace del mio lavoro è che ogni giorno ho a che fare con tantissime persone principalmente sono dipendenti. Il mio lavoro è prevalentemente strategico per cui mi devo occupare di tutta la parte organizzativa dell'hotel. Amministrare un hotel è come amministrare casa per cui bisogna far quadrare i conti a fine mese con le spese e bisogna amministrare le persone che comunque hanno bisogno di indicazioni per svolgere meglio il proprio lavoro. Per quanto lavoriamo in strutture bellissime bisogna sempre ricordarsi che comunque non siamo in vacanza e quindi è necessario sempre una grande flessibilità e una grande professionalità. Il settore del turismo sta investendo tantissimo sui ragazzi giovani e anche con percorsi di alternanza scuola lavoro che permette di provare per un periodo limitato questa esperienza lavorando al ricevimento o al ristorante in modo da avere le idee più chiare quando si farà la propria scelta. Quando avevo la vostra età non avevo per niente le idee chiare, pensavo di fare il medico poi però ho abbandonato l'idea quando per puro caso ho iniziato a lavorare in un hotel come receptionist turnante e in quel momento ho capito subito che era il lavoro della mia vita. Studiando e applicandomi molto alla fine sono riuscito a raggiungere l'obiettivo di lavorare come direttore d'albergo.